Farfalle, farfalle... E' meraviglia! Guardate un po' una bellezza infinita Guardate qua invece tante belle vespe Farfalle le vespe Tutti in armonia con la natura Bellissimo Cenerino Cenerino Aerone Cenerino Bellissimo Altri tipi di vespe Belle Una che va, una che viene Impollinazione infinita Gallinelle Si contendano una femmina Sì 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 il camel veramente bello tranquillo tranquillissimo ci sono le gaminelle le farfalle le vespe ci sono le gaminelle c'è un po' di tutto vieni a trovare dei semi anche a terra la gallinella ciao gallinella come vedrai bella sedia bella eh con l'albero che si è seccato hanno fatto una sedia bella precisamente si chiama lago di sartirana e ci sono tutte le varie specie di pesci di uccelli bella chiaramente da respirare meditare bella bella qui invece sono dei bellissimi alberi altissimi ottimali per respirare molto bene e qui c'è la stradina per camminare e bellissimi fiorellini e questi sono fiorellini appena raccolti per mina bellissimi bellissimi e questi sono i semi del luppolo bella questo qui è il luppolo e questo sono i fiorellini per te belle orchideie piccoli bellissimi queste non è che si fa così no questo è il lupolo ma il lupolo non è così conosco il lupolo è così se viene a vedere vi faccio vedere il ceppo finale sono belli grazie hai visto la mia sedia? si bellissima l'ho fatta per te? non so io l'ho trovata quando sono seduta ah devi appigliarla hai già più voglia una lo puoi farvi vedere? grande pesciolina grazie e anche si chiara? mhm vuoi vedere come vuole? bella bene bella 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 abbiamo scoperto e quindi ci siamo soffermati per osservare, guardare, armonizzare la situazione. Spero che vi sia piaciuto questo bellissimo video, alla prossima, ciao, grazie.